torna interiang anche questa settimana e abbiamo ospite francesco bigotto benvenuto grazie ci sono due caratteristiche tue più temi che svisceriamo più degli altri primo secondo me è il gol che al momento pur essendo non fondamentale dal punto di vista del punteggio la partita è chiusa però il gol in rovesciata col varese è fino adesso secondo me il più bello che è stato fatto in stagione poi ce lo racconterai l'altra che ci ha detto un uccellino che frequenta i vostri campi e che tu sei per quanto riguarda gli allenamenti una cosa impressionante come si allena bigotto onestamente ne avevamo visti pochi io partirei proprio da qui perché secondo me questa intensità che ci metti c'è un po tutto quello che è stata la tua carriera che c'è gente che all'inter dai pulcini e quindi magari non ci fa più neanche caso per te è diverso sì perché comunque ho fatto tutta la trafila fin da quando ero piccolino nei dilettanti fino a due anni fa e da sempre mi hanno insegnato ad impegnarmi sempre al massimo a dovermi guadagnare quindi tu arrivai a 14 15 anni se ancora lì direttante uno dice magari vabbè col calcio e invece no c'è stata sempre la voglia di andare avanti di questo sogno che comunque il sogno un po di tutti i bambini e poi si è realizzato e comunque la costanza negli allenamenti sempre ma sicuramente ha aiutato tantissimo prova inter channel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.it o chiama 199 11 44 00 prova inter channel e poi scegli sky liberi di